Musica Quarto turno del campionato eccellenza del Girone B Si affronteranno oggi il città di San Giuliano dell'allenatore Crocitti Contro il Varzi, vera e propria sorpresa del campionato Teatro della sfida al comunale di San Giuliano che ha retto bene la pioggia di ieri Inizia la gara con il Varzi che muove subito il primo pallone Pallone subito controllato a Zanellati che lotta sulla linea laterale Ma il San Giuliano a gestire in difesa Mazzei che non viene servito, ancora Rossi allarga sulla sinistra Dove c'è Grasso che controlla il pallone C'è il cross per Zingari che prova a impattare il pallone Ma la conclusione non è pericolosa Allora Murriero deve solo gestire la sfera Vedremo come sfrutterà questo calcio di punizione il Varzi C'è Ribuscini sul punto di battuta Va al cross Ribuscini dove c'è Zanellati Potrebbe anche andare alla conclusione Ma la palla si spegne al di là della linea di fondo E sarà il portiere del San Giuliano Boari Incaricato di questa rimessa dal fondo Attento alla pressione del suo marcatore Scambia potrebbe andare al cross il San Giuliano Per cercare la conclusione Vediamo che però il cross si spegne direttamente tra le braccia di Murriero Prova a ripartire di tutta fretta Murriero Però c'è l'ottima copertura della retroguardia del San Giuliano Zanoni per colonna che sfila col tacco Forse si trova in posizione regolare il numero 9 Si tratta di Grasso che va alla conclusione Brutta però la conclusione di Grasso Murriero che decide di giocare la corta Per il numero 18 Cicagna Allora il difensore che gestisce la palla Allarga sulla destra Ancora in pressione San Giuliano Grasso attenzione a Grasso che prova a ribare il portiere Murriero attento A questa iniziativa del San Giuliano c'era stato uno sbaglio In difesa A Babio a lottare Ancora Babio attenzione lancio lungo potrebbe essere Questa è l'occasione pericolosa ma c'è la posizione regolare di Grasso C'era comunque arrivato Murriero Ottimo l'intervento del portiere del Varzi con i piedi Grasso però era scattato con qualche istante d'anticipo Trovandosi in posizione regolare Ancora Babio Prova a insistere il Varzi Attenzione a Zanellati che serve con la testa E c'è il tocco sotto che finisce a lato C'era però la posizione irregolare Da parte di Romano Era buona comunque l'azione Imbastita Rossi ancora Mazzei per Colonna Scambia con Zingari Zingari che tocca col tacco Ancora Mazzei che serve Colonna Che potrebbe andare al cross Avanza Colonna Ancora Colonna all'incentro dell'area Colonna va a terra Non c'è il calcio di rigore Forse era irregolare l'intervento su Colonna Ha preso la palla comunque Il difensore del Varzi Continua il San Giuliano ad attaccare Attenzione a questa occasione per il San Giuliano Rimassa laterale che viene assegnata a San Giuliano Rossi Sincespica sul pallone Attenzione a Rossi Brutto L'intervento di Rossi Va al tiro il Varzi E trova la rete Il numero 17 Moltini Ha segnato il Varzi Al 34esimo minuto di gioco Incertezza di Rossi E il Varzi trova il gol Che vale l'1-0 Al 34esimo del primo tempo Ha segnato Moltini Potrebbe anche provare la conclusione in porta Vediamo il fischio del direttore di gara C'è la finta C'è Zingari che prova direttamente in porta E la parata di Murriero Rebuscini però riconquista il pallone Ancora Moltini La ridà Lopane Lopane che scivola Attenzione Colonna che serve al centro Però Murriero Attento A Non permettere a Zingari Di arrivare sulla sfera Ancora Mazzei C'è forse l'occasione Una delle ultime Per il San Giuliano Bravo Zingari A servire di nuovo Mazzei Che entra all'interno dell'area di rigore Ancora Mazzei in possesso del pallone Prova a servire qualcuno Rossi va al tiro Che si spegne però Sopra la traversa Battuto da Rebuscini Dove però non c'è nessuno E allora Il direttore di gara Dice che basta così per il momento Finisce 1-0 Il primo tempo In favore del Varzi Grazie al gol di Moltini Inizia il secondo tempo Di San Giuliano Varzi Con il San Giuliano Costretto a recuperare La situazione di svantaggio Subito Zingari Con una conclusione Però non ha alcun problema Il portiere del Varzi Mette a terra Zingari Ma c'è Caputo Che recupera il pallone Attenzione allora Al contropiede del Varzi Si allarga in questo momento Romano Romano che potrebbe andare A cercare Zanellati O andare in porta Va al tiro Romano E c'è la parata di Boari Sabatucci è lontana in testa Ma il pallone è ancora in possesso Del Varzi con Romano Che gioca sulla destra Serve Bernareggi Potrebbe andare al cross Lo fa in questo momento Romano di testa Per un momento Non riesce ad arrivare bene Sul pallone E il San Giuliano Si salva Vicino al gol del 2-0 Il Varzi Servito Colonna Scambio con Grasso Ancora Colonna Colonna Che serve di nuovo Grasso Potrebbe andare al tiro Non riesce Però a tirare Grasso C'è la rovesciata Di Colonna Che per poco Non sorprende Murriero Ha sfiorato il gol Del pareggio Colonna Con una bellissima rovesciata Palla che sembrava innocua Ci ha creduto il numero 7 Senza però riuscire A impessierire il numero 30 Cerca la sovrapposizione Che arriva Ma è Colonna Ad arrivare sul pallone Servito di nuovo Zingari Potrebbe andare al tiro Ci pensa Lo prova Caputo Riesce a recuperare il pallone Insiste Caputo Buona la difesa del San Giuliano Ma ancora il Varzi Ad avere la palla Il tiro Di Bernareggi C'era stata una super rovesciata Di Caputo Ma si trovava Assolutamente in posizione irregolare Caputo che Aveva raccolto il tiro Possiamo definirlo sbagliato Di Bernareggi Ancora Zanoni Colonna Per Zingari Zingari che allarga sulla sinistra Dove c'è Cossetti Potrebbe rientrare E andare al tiro Lo fa in questo momento Cossetti Pallone che termina Fil di palo C'è stata la conclusione di Cossetti San Giuliano che Si avvicina al gol Dell'1-1 Battuta in questo momento Il fallo laterale C'è Zingari Che serve Rossi E c'è il tiro Di Rossi E Murriero Che è riuscito a intervenire Su questa conclusione Del numero 5 Murriero Lancia lungo Stacca di testa A Babio Che Per un attimo Ha il possesso il pallone C'è il suggerimento Per Zanellati Che con il tocco sotto Aveva Battuto Boari Senza Centrare il gol Ma era Irregolare La posizione di Zanellati Zingari Che andrà Con tutta probabilità A cercare un colpo di testa A parte i suoi compagni Zingari Che va al cross C'è la conclusione Ancora Serralunga Che punta l'uomo Prova Serralunga A passare In area di rigore C'è un intervento L'arbitro Non fischia nulla Palla che però Termina comunque Dove c'è un suo compagno In squadra Si tratta di Grasso Che entra in area Attenzione a Grasso Potrebbe suggerire al centro Prova la conclusione Grasso C'è l'intervento di Murriero Grasso pericoloso Al 41esimo Il tiro di Grasso E la parata di Murriero Ancora Licciardello Per Costetti Che cerca Zingari Che la mette giù col petto Ancora La rovesciata E Murriero Che blocca col pallone E il Varzi Viola Il campo del San Giuliano Vincendo 1-0 Grazie al gol di Moltini Arrivato nel primo tempo 1-0 Il risultato finale In favore del Varzi Il Varzi riesce a violare Il campo del San Giuliano Si conferma capolista Di questo girone B Del campionato eccellenza San Giuliano Che incappa Nella seconda sconfitta consecutiva E il prossimo turno Che vedrà un scontro Probabilmente decisivo Per le sorti Del campionato del San Giuliano Che infatti Dovrà andare a Provare a vincere Sul campo del Sant'Angelo Mentre il Varzi Dovrà ospitare l'Alcione Da Andrea Zedda Per Arizona TV È tutto Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti.